Tra uno con la caratese, se devo pensare con Borgo Cesar che mi ha preso un calcio di gore dubbio e anche troppo, poi abbiamo perso 3 a 0, quindi Borgo Cesar è una squadra molto attiva, gioca molto bene a calcio. Oggi credo abbiamo giocato contro il Varese a visaperto, abbiamo giocato contro la prima classifica, non posso chiedere più ai ragazzi, ci mancavano tanti giocatori, con me ancora di più, in panchina ha avuto 2.99, sono contento perché abbiamo giocato a visaperto, pur vedendo la palla sempre magari spesso da tirare sui piedi del giocatore del Varese, ma io mi ricordo ben politico in qua.